Ciao a tutti! Oggi prepareremo l'insalatissima di tonno con riso alla curcuma, ceci e arancia. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono riso per insalate, ceci lessati sgocciolati, curcuma, succo d'arancia, carote tagliate a pezzetti, olio, sale, pepe, origano, tonno sott'olio sgocciolato, acqua e sale. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il sale ed azionare il bimbi per 10 minuti, 100 gradi, velocità 1. Aggiungere il riso, le carote e la curcuma. Ed azionare il bimbi per 13 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. E proseguire la cottura per 5 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Scolare e trasferire in una ciotola capiente. Aggiungere il succo d'arancia, l'olio, il sale, il pepe, il tonno ed amalgamare con la spatola. spolverizzare con l'origano. Lasciare raffreddare. Insalatissima di tonno con riso alla curcuma, ceci e arancia. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!